Ciao a tutti, buongiorno. Oggi siamo a bordo di una bellissima imbarcazione che ci ospita e volevo ragionare con voi in merito all'ancoraggio. Certamente noi possiamo passare le nostre notti navigando, possiamo passare le nostre notti in porto, ma possiamo anche, ovviamente è forse momento più bello, fermarci in baia, buttare l'ancora e goderci la baia per un bagno, goderci la baia per divertirci, manca appunto dormire in baia. Qualora faccio la decisione di questo tipo, ci sono due cose che devo subito verificare. La prima è scontate, anzi sono due molto scontate, la prima è il meteo, chiaramente guarderò le previsioni meteo, dando per scontato che siamo in estate, dando per scontato che siamo magari in un momento di alta pressione, che non mi aspetto, però comunque andrò a vedere non soltanto il meteo per capire se appunto cambia il tempo, ma anche per capire quali saranno i venti predominanti di quella zona, che vento mi posso aspettare durante la notte o il giorno dopo, perché se devo scegliere una baia, sceglierò ovviamente una baia che sia protetta rispetto ai venti che mi aspetto, cioè non andrò a mettere una baia aperta a sud con previsto forte vento da sud, o non andrò a mettere una baia aperta a nord, con forte vento da nord, a mettere una baia che sia appunto protetta da vento e da mare. La seconda cosa che devo verificare, e questo lo vedrò con il portogano con le carte, è che tipo di fondale mi aspetta, se un fondale con buon tenitore o se un fondale che magari mi può riservare delle sorprese. È ovvio che il fondale con maggiore tenuta è la sabbia, perché l'ancora affonda e nel momento in cui affonda chiaramente c'è un'ottima tenuta. Quello peggiore, quello più difficile, quello più pericoloso, diciamo, chiaramente è quello con le alghe, perché io posso fare una presa sulla pocedonia, su delle alghe, che inizialmente mi tengono ma che poi posso strappare e quindi potrei avere delle sorprese. Abbiamo poi la roccia, nel caso della roccia ovviamente posso avere un'ottima tenuta, ma potrei avere dopo delle difficoltà nel momento in cui me ne devo andare, in quanto la catena e l'ancora si potrebbero essere incastrate, potrebbe essere difficile salpare. Ma diamo per scontato di aver trovato una baia riparata, di aver visto quali sono le previsioni meteo, attenzione che ci possono essere delle variazioni di qualche ora, io mi aspetto del vento forte la mattina dopo, potrei avere un anticipo, un ritardo fino a 4, 5, alle volte anche 6 ore, e quindi teniamo sempre un po' di lasco, cerchiamo di essere prudenti e conservativi. Ho trovato la baia, entro, guardo che barche ci sono nella baia e mi metto chiaramente a buttarla ancora in una posizione in cui magari l'acqua è limpida, riesco a vedere che non ci sono alghe, che c'è la sabbia che stavo cercando e soprattutto lontano dalle altre barche perché ovviamente, come sappiamo, la mia barca girerà, farà la cosiddetta ruota, non starà ferma e quindi devo avere il mio raggio per potermi muovere senza andare ad intracciare, girerò insieme alle altre barche, c'è un'altra barca che mi vado a mettere dietro in modo che sono sicuro che girerò insieme, non andrò a mettermi accanto, non andrò a mettermi sopra la sua ancora, non andrò a mettermi magari dietro, insomma devo trovare uno spazio che mi permetta di stare tranquillo. Arrivo sulla mia posizione, una persona filerà l'ancora, quanta catena devo filare, quanto calumo, il calumo è la catena che vado a filare, devo avere, normalmente si calcola da un minimo di 3 a un massimo di 5 volte, è chiaro che se mi sto fermando un pomeriggio in Baia per fare un bagno, posso buttare anche 3 volte, tanto sono a bordo, tanto è una bella giornata, tanto non c'è vento, faccio il mio bagno, tanto sono lì e in qualsiasi cosa succeda mi prendo e me ne vado. E' chiaro che se devo passare la notte, vado a dormire, voglio stare tranquillo, butterò probabilmente almeno 5 volte, è chiaro che se mi aspetto molto vento e alla fine dovrò buttare ancora di più, potrò buttare anche 6-7 volte. Questo perché? Perché in realtà la mia ancora, nel momento in cui io vado indietro, deve lavorare orizzontale rispetto al fondo, perché le ancore moderne sono tutte ancore ormai ad aratro, che scavano, poi possono avere l'anello, non possono avere l'anello, possono avere una forma, se non voglio entrare nel merito delle ancore, perché altrimenti qualcuno mi dice, ah tu preferisci questa, preferisci quella, diciamo, diciamo che le ancore moderne hanno tutta questa forma come ad aratro, quindi vanno a scavare, però scavano nel momento in cui vengono tirate orizzontalmente al fondo, nel momento in cui chiaramente hanno un tiro verso l'alto, tendono a scavare, quindi io butto tanta ancora per tanta catena, perché il mio calumo fa sì che l'imbarcazione sia chiaramente la forza dell'imbarcazione, data dal vento, data dalla forza del vento, dalla forza della corrente, in realtà venga ammortizzata da questa catena. Poi posso anche, nel momento in cui ho buttato la mia ancora, ho buttato il calumo, ho fatto tutto, posso anche alleggerire poi il salpa ancora, posso legarlo su una bit, posso mettere un pezzo, negli Stati Uniti per esempio mettono sempre catena, poi mettono cima, perché dicono che la cima alla fine ammortizza meglio, soprattutto in condizione di vento, di mare, gli sforzi che dà l'imbarcazione. Comunque torniamo al nostro ancoraggio, abbiamo buttato l'ancora, abbiamo buttato il nostro calumo, ci fermiamo, abbiamo ancora il motore in moto, non lo spegniamo ancora perché non sappiamo ancora se ha preso, possiamo tranquillamente, questa è una cosa che facevo sempre io da bambino, ma poi diceva guarda, traguarda, traguarda a destra, traguarda a sinistra, guarda sulle sarti e prendi un punto e dimmi se ci muoviamo, per abituare l'occhio a traguardare e a guardare se appunto ti muovevi. Esistono anche sistemi, allarmi che puoi settare in barca se la barca si muove o addirittura delle app, esiste un'app col cellulare, con un tablet che se ti esci dalla tua safety zone ti dà un allarme e ti dici guarda che la barca si sta muovendo. Alla vecchia comunque puoi traguardare e ti rendi conto se sei fermo o non sei fermo. Nel momento in cui sei sicuro che non ti stai muovendo, che l'ancora ha fatto tenuta, che ti sei perfettamente bloccato, a quel punto puoi spegnere il motore e poi finalmente goderti la tua baia. Nel caso in cui venga tanto vento poi ci sono altre possibilità perché potresti decidere di buttare, di appennellare o di afforcare le ancore. Questo forse avrà bisogno di un altro video, ne potremo parlare, però puoi mettere sostanzialmente un'ancora dietro l'altra, un'ancora, la tua ancora e un'altra ancora in modo che nel momento in cui c'è tanto vento questa tenuta venga, tra virgolette, raddoppiata, oppure poi mettere le due ancore con un angolo normalmente di 45 gradi. In questo caso la barca non farà la ruota ed è un'altra cosa, ma di questo parleremo in un altro video. L'ultima cosa che vi voglio dire è, soprattutto se c'è un fondale roccioso, ricordatevi, la grippe è grippiale, cioè legata una cimetta sull'ancora, sul diamante e con una cimetta e con un parabordo, non vi serve una boetta, in modo che quella cima sia sollevata perché nel caso in cui la mia ancora abbia fatto presa su delle rocce, si è incastrata su delle rocce, sarà molto difficile che quando vado ad estrarla questa possa uscire e con la mia grippe, con il mio grippiale, essendo legata appunto sul diamante, non farò altro che andare col tender a tirarla dall'altra parte e ad estrarla. Io mi ricordo una volta da ragazzo che a Parenzo si rimase lì per delle ore, perché non si riusciva a tirare via questa ancora dalle rocce, c'erano 7-8 metri d'acqua, si andava giù in apnea, non avevamo nulla per immerderci, fino a quando un'anima santa, ormai eravamo disperati, ha detto vabbè perderemo l'ancora e perderemo la catena perché non c'è altro modo di andare via, avevamo provato a filare una cima lungo la catena, avevamo provato a tirarla, provato a fare di tutto, poi per fortuna un vicino con un gommone che aveva l'attrezzatura da sub si è immerso, ci ha legato l'ancora, ce l'ha liberata e l'abbiamo tirata fuori. L'ideale sarebbe sempre gli skipper, quelli bravi, abbordano sempre il mutino e se qualcuno sa immergersi c'è anche forse un bombolino per immergersi. Comunque in quel caso sarebbe stato sufficiente sulla nostra ancora avere appunto la cimetta col grippiale e in quel punto avremmo tirato via l'ancora dal suo blocco in pochissimi minuti. Mi ricordo che da quella volta in lì poi la grippa, il grippiale mio papà lo mise sempre, quindi se siete in baie con le rocce, in zone rocciose, mettete una grippia, mettete un grippiale, ma poi mancare anche di questo, ne parleremo un'altra volta. E cos'altro posso dire? Beh, godetevi la baia, che è la cosa più bella, mi raccomando, scegliete bene l'ancora, esistono tante ancore in commercio, non ho voluto nominarle, ma diciamo tra le ancore moderne sono tutte buone, possiamo parlare di Rocna, possiamo parlare di Ultra, possiamo parlare di, sono tutte ancore che hanno i loro pregi, i loro difetti, l'importante è che qualsiasi fornitore, qualsiasi venditore, c'ha delle tabelle, quindi a seconda della misura della barca, a seconda del peso della barca, vi dirà quella che è l'ancora appropriata per le vostre esigenze, esagerate magari semmai un po' con la catena, per il motivo che dicevamo prima, un po' di calumo in più, comunque non guasta e per il resto fate semplicemente molta attenzione, alla fine ancorare non è difficile e chiunque lo può fare. Per il resto non mi resta che salutarvi, dateci un like, continuate a seguirci, ciao!